Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dove siamo qui? Siamo nella schermata delle schede del video sull'aggiornamento del canale. Potete vedere l'anteprima sulla sinistra, in formato molto più piccolo rispetto al video. Allora ragazzi, volevo specificare che ovviamente se ci saranno dei pareggi, cosa che non credo sinceramente, ci saranno dei pareggi, mi assumerò io la responsabilità di scegliere per voi. Perché è come se il mio voto contasse un voto in più e quindi darà un dislivello tra una e l'altra risposta. Ok? Solo questo volevo dirvi prima di iniziare. Allora, le domande che avevo fatto in questo video erano tre. Quando volete che inizi site? La prossima serie sarà? E vi piace la nuova programmazione? Direi di iniziare dalla più stupida, ovvero, vi piace la nuova programmazione? Specificando alcune cose. Andiamo a vedere il risultato. Grazie, grazie mille, ok. 23 risposte, tutte positive, non ce n'è una negativa. Grazie mille a coloro che hanno votato, perché sì, purtroppo è capitato che qualcuno votasse nei commenti, nonostante avessi detto centinaia di volte all'interno del video. E anche all'inizio, mettendo in primo piano il mio commento, che bisognava andare a votare nelle schede. Ragazzi, su 91 visualizzazioni di questo video, soltanto 23 hanno votato, quindi immaginatevi un po' come non si siano capite le cose. Però, vabbè, non è molto difficile comunque capire come votare. C'era una I in alto a destra al video, dove potevate cliccare e ogni tanto usciva la domanda. Vabbè, sì, era quello che volevo, ok, grazie. Con questo voglio specificare cosa accadrà alle mod, quindi. Per quanto riguarda SnapMap, ovviamente, prenderò delle mappe, a caso, oppure, non lo so, suggerite da voi, che volete vedermi giocare. E vedrò se riuscirò a completarle, perché purtroppo, non so se lo sapete, in SnapMap non è come Mario Maker, per intenderci. Non è quel tipo di mod. Perché Mario Maker, se il creatore della mappa non riesce a completare la mappa, la mappa non viene pubblicata online. Invece, qui, su SnapMap non succede. Ovvero, ci possono essere molte mappe troll, molte mappe stupide, molte mappe troppo difficili da completare. Cercherò di prendere il meglio dalla community e se proprio, anche se è una mappa difficile, mi piace, ve la porterò. Ovviamente, cercherò di non spoilerarvi tutta la mappa, perché vorrei che la giocaste anche voi. Ovviamente, mi scriveste cosa ne pensate. Per quanto riguarda le mie mappe, purtroppo, come ho già detto prima, mi trovo in una situazione molto molto difficile in questo periodo, a livello di vita privata. Quindi, ho poco tempo per poter creare qualcosa di buono, perché non voglio che sia creato, non lo so, il solito stanzone pieno di nemici. Voglio che sia un pochino più articolata la cosa. Sono purtroppo un perfezionista e, essendo perfezionista, queste cose mi capitano molto spesso, non di procrastinare, perché non si tratta di procrastinare, ma di avere un'idea di base divertente. Perché se un'idea di base non è divertente, oppure ricicla l'idea già fatta nelle precedenti mappe, che comunque sono nove, è inutile. E' inutile farle, almeno a mio parere, le mappe. Per quanto invece riguarda le mappe classiche di Doom, le mod classiche, innanzitutto poi vi andrò a spiegare su quale WAD gira, se su Doom o su Doom 2, o se su uno dei Final Doom. Ovviamente, ve lo scriverò in descrizione, probabilmente. Non ho ancora deciso. Però per il resto cercherò di andare molto a caso su quelle, perché ci sono stati alcuni suggerimenti da parte vostra e vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo. Ovviamente cercherò di portare prima le mod carine che conosco, poi le vostre, oppure cercherò di portare prima le vostre che mi avete suggerito, Perché, per esempio, c'era un ragazzo nei commenti che aveva chiesto a gran voce Quake Champions Doom Edition, che lo recensissi di Quake Champions Doom Edition, Oppure che ci sia un episodio su Aeons of Death, che è una mod molto particolare di Doom. Ragazzi, come si dice, possiamo fare qualunque cosa vogliamo. Quindi, andiamo con calma, cerchiamo di divertirci molto, molto, sciallin, senza pensare molto su cosa fare. Ci sarà tempo per portare tutto, ovviamente. Quello che volevo specificare, che forse molti non hanno capito, è che potrebbe capitare, perché non lo so, non sto adesso a pianificare robe per mesi prossimi. Potrebbe capitare che, magari qualche settimana, possa mancare l'episodio sulle mod. Questo perché, per prepararmi su un episodio di una mod, devo ovviamente giocare la mod, e vedere se è carina da portare, perché se non è carina da portare, è inutile che ve lo faccio. Quindi, se trovo la mod giusta, quella settimana c'è l'episodio sulle mod. Non mi sto molto a spremere. Volevo che fosse una cosa scialla, così come quando voi avviate una mod, e dite, wow, questo è carino, questo non lo è, wow, questo è brutto, questo non lo è, ok? Comunque, grazie per le 23 risposte, nessuna negativa, veramente, sono veramente contento. Allora, direi di passare alla prima domanda. Questa domanda ve l'ho fatta come inizio, perché site, credetemi, mi ha costato veramente tanta fatica come serie, però mi sono reso conto che sarebbe venuta troppo spezzettata come serie. Non volevo questo all'inizio, perché non immaginavo che, per esempio, la serie di Undertale, che sto trattando sul canale, e la serie sulle mappe classiche di Doom, si protraesse per tutti questi mesi. Non immaginavo per niente una cosa del genere. Quindi ho detto, oh, purtroppo mi sono trovato a metà mese di giugno, con i video che mancano, tra virgolette, perché già sto preparando qualcosa nel caso abbiate scelta una delle due risposte, ho detto, cavolo, se mi trovo a metà mese senza video, perché io sono solito lasciare il mese di luglio, il mese di agosto, senza alcun tipo di video, mi sono detto, oh, vabbè, proviamo a fare questa specie di sondaggio, altrimenti non fa niente, lascio così e faccio iniziare site. Poi ho pensato, oh, perché non lasciare decidere a voi la futura programmazione del mese di giugno? E... quando volete che inizi site? Cavolo! Un pareggio! Perfetto! La prima risposta era subito, e la seconda risposta è aspettiamo settembre. Perché aspettiamo settembre? Perché l'avevo detto nel video, magari è meglio se aspettiamo settembre, perché se ci pensate, sarebbe venuto il mese di giugno, poi luglio e agosto non ci sarebbe stato niente, quindi la serie di site già sarebbe rimasta indietro così. Poi sarebbe iniziato settembre, poi sapete che io a ottobre porto sempre una serie su un videogioco diverso, perché voglio un poco staccare dalla routine di Doom, quindi di solito porto un gioco horror, un pochino in tema con Halloween, ok? Per esempio, ragazzi, l'anno scorso ho portato Resident Evil 3 Nemesis in una particolare run. Se non l'avete visto, andatela a vedere. Quindi adesso mi trovo a decidere io. Direi di aspettare settembre, direttamente. Contate come se avessi votato all'interno del video, ok? Quindi, ragazzi, aspettiamo settembre. Direi che sia la cosa migliore. Anche perché vi ho già detto, verrebbe troppo spezzettata. Inizierei, poi smetterei, poi inizierei di nuovo, poi smetterei per il mese di ottobre. Almeno così ve la trovate spezzettata solo da settembre fino all'inizio di novembre. Terza ed ultima domanda del video. La prossima serie sarà... Cavolo, cavolo, non mi aspettavo una vittoria del genere. Per niente, per niente. I tre giochi che avevo deciso di portare erano Duke Nukem 3D, Quake e Blood. Wow. Blood ha scassato in voti Quake e Duke Nukem 3D. Nemmeno il doppio dei voti di Quake sarebbe servito per raggiungere i voti di Blood. Quindi, ragazzi, vi confermo che una volta finito Site, inizierà la run su Blood. Per coloro che non conoscessero il gioco che è stato scelto, è un gioco fatto su Build Engine molto, molto a tinte horror, molto ispirato alla cultura americana, in particolare, e sui film, sulla letteratura. è molto a tinte horror, ma come vi ho già specificato molte volte, è uno dei giochi più difficili come first person shooter da giocare. Poi vi spiegherò il perché, poi vi spiegherò il perché. Per il resto, ragazzi, Quake e Duke Nukem 3D, non vi preoccupate. Non andranno dimenticati. Ci sarà un'altra votazione, poi, ovviamente, una volta finita la run di Blood, dove verranno inclusi. Quindi, se volevate vedere questa serie, dovete semplicemente aspettare. Non vi preoccupate, non andranno dimenticati. Quindi, ragazzi, la prossima serie sarà... ...su Blood. Sono contento perché questo gioco non ha ricevuto il trattamento che molti videogiocatori gli dovevano. Perché è veramente molto bello, molto figo, soprattutto. È stato un pochino il figlio della serva tra Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, e i giochi usciti per Build Engine di quell'anno. È stato un pochino molto, molto poco pubblicizzato. E, da quello che ho visto su YouTube Italia, non ce n'è nessuno che l'ha trattato. Quindi sarei il primo a trattare una run del genere. Sono contento, sono contentissimo. Ovviamente, poi, vi spiegherò a quale difficoltà lo giocherò nel primo episodio. Perché, non so se lo sapete, ma la difficoltà in Blood è glitchata. Solo questo vi spiego. Poi, casomai, andatevelo a vedere voi, se siete curiosi. Ma, comunque, ragazzi, la prossima serie sarà su Blood. Sono contento. Per il resto, grazie per aver visto questo video. Lo so, non c'era niente a schermo. C'erano soltanto le votazioni a io che parlavo. Ma, per il resto, questo si trattava. Di questo si doveva vedere. Che serie porterò sul canale delle miniserie a giugno, dove si tornerà un pochino indietro col tempo, persino prima della prima PlayStation. Quindi, tenetevi forte, eh. Per molti potrebbe essere un viaggio nei ricordi. Detto questo, alla prossima.